Siamo ad alta quota, le hostess salutano le stelle, Jeff Stone e Corinne Calvé, Massimo Girotti e Millie Vitale, Kerima e il marito, e poi Manuel Lualdi e Rivella. A lume di candela in una serata a Saint Vincent, le hostess rischiarano la notte polare prima di presentarsi sulla pedana in una serie di costumi con relative danze che ci fanno compiere come in una scorciatoia il giro di Mezzomondo e la groenlandese a nome delle regioni artiche ci ricorda che queste ragazze conoscono veramente la più rapida delle scorciatoie volanti, appartengono infatti agli equipaggi che di recente hanno inaugurato la rotta polare. Apprezziamo durante la serata i sussulti del passo scozzese, apprezziamo il buggy buggy, ma sappiamo in compenso che gli apparecchi a 4000 metri nei calmissimi cieli artici non ballano il buggy buggy.